Oggi sono qui con Roberto Santarelli. Cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi? Io tra le varie mi occupo di editoria specializzata B2B. Infatti Emiliano scrive per la mia rivista che si chiama Locali Top. Abbiamo fondato oltre a questo l'associazione italiana Food & Beverage Manager di cui Emiliano nel primo mandato è stato anche vicepresidente vista l'onorevole carriera che aveva fatto in quel ruolo. Attualmente oltre a queste cose qui ho anche una piccola enoteca in centro a Milano che infatti è il motivo principale per cui oggi sono qua. Perché hai deciso di partecipare a Risto Business? Perché io sono il primo a credere che i locali pubblici esercizi si gestiscano con i numeri, con i dati, con l'analisi ma mi mancavano le skill, il know-how per capire come inserire questi dati, chi lo doveva fare e poi anche che tipo di analisi farne. È stato utile il corso? Assolutamente sì, ovviamente si prevede un grandissimo lavoro post-corso perché le cose da fare per avere un'azienda che funzioni sono tantissime. Ci vuole anche una mente di un certo tipo, infatti è la prima cosa che Emiliano racconta all'inizio del corso proprio perché devi essere impostato per capire che il tuo lavoro è molto più quello che sta fuori dal bancone e quindi in una fase preventiva durante e post-lavoro e poi anche ovviamente quella dietro al bancone se sei uno che in prima linea opera in queste cose. A chi consiglieresti Risto Business? Ma considerando che in Italia chiudono 25.000 pubblici esercizi ogni anno e ne aprono 15.000 a tutti quelli che quei 25.000 non li vogliono chiudere.